Benvenuti anche questa settimana a Vesper 2.0, l'approfondimento settimanale di Teleradio Montecronio. Nostro ospite è Ignazio Cutrò, testimone di giustizia. La storia di Ignazio Cutrò è nota per la sua battaglia, vittima del racket delle estorsioni da imprenditore e ha denunciato i suoi estortori, mandandoli anche sotto processo. È cominciata una sorta di Odissea, che adesso si è conclusa da qualche tempo, però ci sono stati dei momenti probabilmente in cui Ignazio Cutrò non si è domandato che me l'ha fatto fare perché credo che lo rifarebbe e tuttavia si è domandato ma lo Stato da che parte sta? È dalla mia parte o contro di me? Io vorrei cominciare però questa prima intervista con Ignazio Cutrò, che naturalmente ringrazio per aver accolto il mio invito, con una domanda proprio didattica. Lei si arrabbia molto quando per errore, naturalmente in buona fede, qualcuno la definisce collaboratore di giustizia e invece lei è testimone di giustizia. Ci spiega un po' la differenza? Sì, allora intanto grazie per avermi invitato, sono veramente onorato di essere qui nella voce emettente. Allora, la differenza non è che io mi arrabbio, credo che sia umano arrabbiarsi perché c'è una differenza incredibile. Il collaboratore di giustizia, giustamente, è colui che ha fatto parte di una famiglia mafiosa, colui che ha ucciso, colui che ha fatto del male alle persone per bene e poi, tra virgolette, è il cosiddetto pentito, cioè collabora con le forze di polizia e con la magistratura e quindi è il programma dei collaboratori di giustizia. Quel programma viene fatto da Giovanni Falcone. Giovanni Falcone giustamente aveva capito che effettivamente c'era bisogno per smantellare la mafia di chi collaborasse con la magistratura e aveva fatto una legge d'occhio in quel periodo che era a Roma, quindi una legge per i collaboratori di giustizia. Credo che ancora la figura del testimone di giustizia non esisteva, quindi per questo c'è anche questa confusione, ma non solo da parte del cittadino ma anche a livello istituzionale, perché mi è successo più una volta anche a livello istituzionale che qualcuno ci ha chiamato collaboratore. Quindi nonostante tutto ci definiscono dei mafiosi e mi creda che fa male. Mentre il testimone di giustizia? Il testimone di giustizia è quella persona. Ignazio Cutro è una persona che era nel mondo del lavoro, un imprenditore. Siamo noi, noi cittadini, persone che non hanno avuto mai a che fare con le mafie, persone che hanno detto no alla mafia e quindi questo succedeva perché fino al 2001 la legge convogliava sia i testimoni di giustizia che i collaboratori di giustizia. Nel 2001 il legislatore in parte ha capito che effettivamente c'era qualcosa che non andava. Erano due figure diverse. Erano due figure diverse e lì nasce la seconda e la terza divisione e quindi da lì vengono divise le figure. Quindi il collaboratore di giustizia e il testimone di giustizia. Ecco, il testimone di giustizia è Ignazio Cutro, imprenditore che è ex. Ex imprenditore, adesso costretto anche a porre fine alla sua esperienza di imprenditore. La domanda che voglio fare è questa. Adesso la vicenda, partiamo dalla fine insomma. Ah sì. C'è stato questo riconoscimento da parte delle istituzioni, nella fattispecie da parte della regione che ha avuto questa, si è presa in carico diciamo la situazione che riguardava i testimoni di giustizia. Ho detto bene, ecco vedi che anch'io sono preoccupato di sbagliare. La forma è sostanza secondo me. A che tempo che fa? Pure Fabio Fazio, tre secondi prima parlavamo i testimoni, ma ha detto il collaboratore di giustizia Ignazio Cutro. Sì, me lo ricordo. Può succedere. Però secondo me la forma è sostanza. Quindi noi dobbiamo riconoscere alla forma il valore sostanziale. Ecco, dicevamo, mi sono perso. Stavo parlando di oggi. Parliamo di oggi. La regione ha preso in carico la situazione che riguardava i testimoni di giustizia. Adesso Ignazio Cutro non è più imprenditore, è un pubblico dipendente della pubblica amministrazione, sulla base di una legge naturalmente che è stata approvata. La domanda intanto che faccio è che cosa fa adesso Ignazio Cutro? In quale ufficio lavora? Ignazio Cutro è pubblico impiego, ex ufficio collocamento regionale. Sono lì. Sono a Bivona, perché sono fortemente convinto che non devo essere io andarmene. Ora ne parleremo di questo. Devono essere mafiosi. E sono lì grazie alle istituzioni, in particolare al viceministro pubblico, poi al prefetto di Agrigento e poi al colonnello, che loro giustamente hanno, e anche al presidente della regione, Rosario Progetta, che mi hanno dato la possibilità di dove io sono stato fatto fuori anche dal mondo lavorativo, di andarmi a riscattare nel mio paese. Ecco, c'è chi, anche un mio collaboratore poco fa, se lo domandava prima di cominciare la trasmissione, dice ma come fai? Come fai Ignazio Cutro a dire me ne vado a lavorare a Bivona? In quella stessa Bivona, che naturalmente le ha dato i Natali, però le ha dato anche un po' di dispiaceri, no? Ma a Bivona ci sono tantissime persone oneste, tantissime persone che magari anche per paura, che io non la condivido perché anche io ho paura, ci hanno abbandonati, ci hanno lasciati da soli, ma so che a Bivona, ne sono certo, ci sono tantissime persone oneste. Quindi noi, io e la mia famiglia, già questa decisione l'abbiamo presa il 10 gennaio del 2011, il giorno prima che entravamo nel programma di protezione di rimanere nella nostra terra, e quindi siamo fortemente convinti ancora oggi che, dico, non voglio ripetermi, non devo essere io a andarmene, ma quei quattro pezzi di merda dei mafiosi. Scusi la volontarietà, ma... No, in questo caso ci sta. Questa dichiarazione non devo essere io ad andarmene, l'ha fatta qualche tempo fa, dopo che hai cominciato a lavorare lì a Bivona, insomma, qualcuno dice che qualche bivonese avrebbe detto, ma perché non se ne va, cosa ci sta a fare, insomma, io non lo so se questo è vero, perché sono convinto che ovviamente a Bivona il 99% delle persone sono persone oneste, come a Sciacca, come in qualunque posto del mondo, evidentemente c'è chi invece è orientato verso altre direzioni. Però lei dice, non sono io che me ne devo andare. Ma io, dico detta così tra noi, c'è un vecchio proverbio che dice, la mamma di Vecchi Sceme è sempre incinta, quindi questo è il primo caso. Il secondo caso, che io poi ho detto pure, l'ho dichiarato pubblicamente, forse qualcuno preferisce una famiglia mafiosa a posto della famiglia Corro, come vicino di casa. Quindi ognuno poi si sceglie la vita, noi abbiamo scelto la nostra vita. Riguardo alla legge vorrei precisare una cosa, che grazie alla certa mia e della mia famiglia, grazie poi alla nascita dell'Associazione Nazionale del Testamento di Giustizia, di cui io sono Presidente, noi siamo stati promotori, grazie anche alle mie battaglie, della legge regionale, della legge nazionale, perché c'è pure una legge già approvata e ieri, finalmente fra lo Stato e Regioni, finalmente si partirà per l'assunzione eppure del Testamento di Giustizia a livello nazionale. Quindi ci sono due leggi, due leggi importantissime che sono state messe in mano agli inquirenti e anche alla magistratura per dare stimolo alla denuncia. Non è stata una legge fatta a di persone a me. Di fatto io ho accettato e ho resistito fino all'ultimo ad essere impiegato perché io non volevo accettare la legge, io volevo continuare a fare l'imprenditore. E se oggi lo Stato sicuramente ha vinto, ma io ho vinto a metà, perché io ho promesso a mio padre che fino in fondo avrei fatto l'imprenditore, ma non è stata colpa mia, perché io ci ho provato, perché poi una parte di comunicazione... Raccontiamo ai nostri telespettatori, cosa succede a un certo punto? Ignazio Cutrò non può fare versamenti per essere in regola col DURC, lo Stato non può farlo lavorare e quindi non può incassare i soldi dal lavoro per poter pagare il DURC, diventa un circolo vizioso. Sì, ma oggi lei mi ha invitato per venire qua, ma fra qualche settimana o qualche mese o qualche anno verrò io a presentarmi qua, perché giustamente non ho potuto più pagare la SERIT che avevamo realizzato, anche se tantissimi politici si erano fatte la bocca dolce. La SERIT è la società che si occupava dell'esazione delle tasse. Perché io prima delle denunce non avevo nessun tipo di problema, avevo tripla A, massima affidabilità bancaria. Dopo le denunce non ricevo più commesse, quindi c'è stato l'abbattimento della mia ditta. Dopodiché c'è stato un piccolo passo avanti fatto sia da parte mia che da parte della mia famiglia, eravamo riusciti a ripagare, a realizzare tutto, anche se qualche politico si era fatto alla bocca d'orce che ci doveva aiutare a fare tutto. Un piccolo aiuto che per noi è stato grande, allora si è stato dato alla regione Sicilia che ci ha dato un piccolo conceputo e siamo riusciti a pagare l'anticipo per la SERIT e due affidamenti di lavori pubblici nella regione Sicilia. Quindi anche allora, anche grazie alla dottoressa Corsello, quindi lei si è impegnata personalmente perché era il commissario cioè il denario del CARS, quindi siamo riusciti a ripartire. Ma dopodiché c'è stato poi il silenzio, cioè la mia azienda non ha più ricevuto aiuti e sono stato totalmente penalizzato. Lei si aspettava che lo Stato l'aiutasse a lavorare? Ma io ho chiesto perché, dobbiamo spiegare anche come dice lei ai telespettatori, perché ci sono due forme di programma per il testimone di giustizia, cioè il programma di protezione in località protetta, cioè significa che il testimone di giustizia viene preso, portato in località protetta, cambiamento di identità. E lì la legge, il legislatore, secondo me e l'abbiamo fatto capire, di fatti che pochi giorni fa il viceministro Bubbico assieme al ministro Orlando e al ministro Angelino Alfano hanno fatto la carta di diritti, l'hanno presentata, dove effettivamente capiscono che c'è un voto legislativo, perché non si può accettare che il testimone per avere ripagato i danni deve entrare per forza nel programma di protezione in località protetta, quindi lì il programma, lì la legge interviene, ti riconosce i danni, hai una mensilità, ti danno una casa, quello che sia, dopodiché, dopo un periodo che loro stabiliscono, a secondo la tua esposizione che hai, ti danno la capitalizzazione. Per chi rimane in località d'origine, entra nel programma e rimane in località d'origine come abbiamo fatto noi, perché noi non l'abbiamo fatto per soldi, l'abbiamo fatto per dignità e io lo sapevo, non prevede niente e questa è una cosa atroce, perché a me i danni che ho subito dalla mafia non me li sta ripagando nessuno, però i debiti accumulati per colpa della mafia, come quelli che abbiamo realizzato per la Serit, lì mi rimangono e la Serit mi verrà a bussare. Ora io voglio dire, ok, ho pianto una volta, non vorrei pangere due volte, ora io devo ripagare pure i danni che ho subito dalla mafia, ecco, lì poi si vedrà. Ecco, queste sono le cose che le hanno fatto domandare, ma lo Stato da che parte sta? Però poi si accorge che ci sono dei vuoti legislativi. Ma ci sono dei vuoti legislativi e noi abbiamo dimostrato che noi, semplici cittadini, abbiamo stimolato la politica e grazie a quella parte di politica si sono attuate due leggi e le voglio dire di più, che alla FSNI nel dicembre del 2013, il 16 dicembre abbiamo organizzato con l'Associazione Nazionale un incontro, abbiamo inventato un mezzo governo di cui c'era presente anche Rosi Bindi, il presidente attuale della Commissione Antimafia e lì io personalmente ho chiesto, gli ho fatto capire che pure lì c'era un vuoto legislativo nella Commissione Antimafia e ho chiesto che si faceva anche una commissione per il testo di giustizia. La Bindi a febbraio ha risposto in modo positivo, ha fatto la quinta sottocommissione del testo di giustizia, sono stati ascoltati tutti gli organi dello Stato di cui la maggior parte dei testimoni e gli hanno presentato un disegno di legge che quindi accompagna la carta di delitti. Ma deve essere ancora approvato. Sì, e quello è il problema, si fa un lavoro immune che poi magari all'ultimo è come ho dichiarato io pochi giorni fa che non ci sia la solita passarella, io di fatto lì alla presentazione della carta di delitti non ci sono andato. Per ora Ignazio Coutrò ci sta dicendo, la legge mi è venuta incontro, mi ha dato il lavoro, adesso io non faccio, però se io avessi potuto scegliere avrei preferito continuare a fare l'imprenditore. Io sono stato obbligato, perché devo stavare la mia famiglia, noi siamo arrivati al punto probabilmente di non ritorno, di non poter fare più la spesa, ci hanno tagliato la luce, anche se ne se ne raccontano tante. Ecco, a proposito del se ne raccontano tante, cosa ha fatto più male Ignazio Coutrò? Abbiamo visto anche delle foto in cui si è incatenato davanti il Viminale per richiamare l'attenzione perché funziona così, lo dico anche con una sorta, con un po' una punta anche di autocritica nei nostri confronti, insomma o ci vengono i riflettori, le telecamere oppure non si muove niente, anche se autocritica fino a un certo punto perché poi evidentemente le cose devono andare avanti in questo modo perché la politica faccia qualcosa. Ecco, qualcosa ha fatto più male Ignazio Coutrò? Sentirsi dire che forse qualcuno ha detto anche che ci ha marciato un po' con questa vicenda del racket e dell'estorsione? Ma io a qualcuno gli ho detto di cambiare... Quindi diciamo oltre al danno anche alla beffa di sentirsi dare... Io a qualcuno gli ho detto di cambiare la sedia, la mia sedia con la loro per vedere la nostra situazione, se io ci avrei marciato sicuramente non mi avrebbero tagliato la luce come mi è successo poco tempo fa, io voglio ringraziare innanzitutto la magistratura e poi in particolare l'arma dei carabinieri perché effettivamente ci ha accolti nella loro grande famiglia che non solo ci tutelano ma ancora fino a oggi ci hanno dato anche la possibilità di vivere, possibilità di vivere anche aiutandoci alle volte anche a riuscire a sfamare la mia famiglia lo dico veramente, non mi tolgo dignità ma credo in questo momento è una cosa importante in silenzio ci hanno aiutato, quello che non hanno fatto tantissimi altri un ringraziamento va alla stampa in generale perché quella luce, quel faro se si spegne di fatto io nel libro, nel mio libro abbiamo vinto noi abbiamo vinto noi con Benny Calasanzio con Benny Calasanzio della Melampa alla fine del libro, nella copertina io dico delle semplici parole e che ogni volta che le dico sinceramente mi uccidono queste parole ma è la realtà di quello che succede perché il testimone di giustizia è un morto che cammina, la mafia non dimentica io non voglio fare la fine di Domenico Naviello perché Domenico Naviello l'hanno fatto ferociti dal programma e succederà pure a me sicuramente e l'hanno ammazzato oggi la famiglia si ritrova con una medaglia d'oro a valore civile quindi io finché posso preferirebbero che il loro congiunto fosse vivo sì, secondo me preferivano il congiunto vivo che non una medaglia e io allora cosa posso fare oggi? raccontare quella storia a sempre e di continuo e dire che denunciare è giusto, è un obbligo da parte del cittadino e sperando sempre che quella luce non si spenga, quel faro non si spenga e questa idea di far nascere un'associazione sì, io prima l'associazione nazionale dei testimoni di giustizia prima avevamo fatto nascere a livello territoriale, a livello provinciale l'associazione Libere Terre di cui ci siamo fatti parti civili in tantissimi processi poi effettivamente ho capito che l'esigenza di far nascere un'associazione perché l'associazione nazionale dei testimoni di giustizia non può esistere perché effettivamente un testimone non si può incontrare con un altro testimone il regolamento del ministero quindi è stato è come la storia del DURC sì, è un lavoro perché effettivamente ed è giusto anche così se lo vogliamo dire perché se io sono testimone di giustizia all'Ogolità Protetta mi incontro con lei testimone di giustizia all'Ogolità Protetta il nostro pericolo si raddoppia quindi io metto in pericolo a lei e lei mette in pericolo a me quindi è una questione di sicurezza ma il bisogno era tanto fare capire alle istituzioni che noi c'eravamo perché l'ho sempre detto da parte mia il testimone di giustizia dovrebbe essere fiore all'occhiello invece era un'ombra al buio quella cosa presa e portata via in alcuni casi il collaboratore di giustizia ha più diritti di noi perché ancora per loro hanno sempre qualcosa da dire quindi c'è la magistratura che o bene o male li continua tra virgolette a difendere il testimone dopo l'esercizio di testimonianza nel lavoro giudiziale ha dettato il proprio estorsore e quello che sia è finita lì quindi restiamo in balia allora ho fatto un lavoro mi creda immune sono riuscito a mettere dentro una casa sequestrata alla mafia un bene confiscato alla mafia quasi 50 testimoni di giustizia a Latina e lì sono riuscito a far nascere la prima associazione nazionale testimoni di giustizia di cui io sono il presidente il problema più grande e si deve dire che un testimone di giustizia che è in località protetta non può rilasciare interviste se non dopo brevia autorizzazione da parte del ministerio e queste autorizzazioni non arrivavano mai allora io ho avuto allora tantissimi incontri con l'ex sottosegretario il viceministro all'interno e poi anche con l'attuale viceministro all'interno e gli abbiamo fatto capire che noi siamo amici dello Stato noi siamo nati per stare vicini all'istituzione quindi l'intervista significa la testimonianza non testimoni di giustizia in aula ma la testimonianza civile ecco lei gira ancora per le scuole io giro per le scuole giro tantissimo tantissimi inviti fra non molto andrò anche nel nuovo continente in America a portare la mia testimonianza la bellezza che sono stato invitato dalla polizia dalla polizia americana per andare a parlare all'università quindi una cosa una cosa bellissima quindi sono cose è un nostro dovere io alle volte mi dico mi meraviglio perché noi in Sicilia siamo abituati come si dice in siciliano a ristare il relobricione a rimanere dietro la pietra aspettando che gli altri facciano qualcosa per noi stessi allora alziamoci le maniche alziamoci le maniche e facciamo qualcosa per noi stessi per i nostri figli perché così non può andare la dobbiamo finire fare passarelle che si fanno gli incontri antimafia ma devono avere un obiettivo la continuazione come diceva Paolo Borsellino di mafia se ne deve parlare sempre fra gli amici al bar più se ne parla più loro diventano debole non si deve fare la manifestazione antimafia solo per fare vedere che sei antimafioso è come essere cattolico uno è cattolico tutti i giorni non è solo cattolico quando va a scuola quindi noi noi dovremmo gridare deve farlo sempre deve essere coerente ecco nel giorno scorsi a Bagheria c'è stato un fatto di cronaca molto importante insomma tanti imprenditori come lei e anche di naturalmente commercianti non soltanto nel mondo dell'impresa hanno denunciato e 36 persone hanno avuto ordinanze restrittive nei loro confronti che cosa ha provato Ignazio Cotrò leggendo i giornali una felicità immensa una felicità immensa perché ho visto che c'è una nuova primavera ho visto che veramente quella è la Sicilia la Sicilia che vuole il riscatto la Sicilia che vuole cambiare la Sicilia che dice no alla mafia ecco così devono essere gli imprenditori gli imprenditori devono essere questi gli imprenditori che dicono no al pizzo no all'oppressione mafiosa e no a farci rubare il futuro in quel caso io voglio essere un uomo d'onore l'uomo d'onore non paga il pizzo l'uomo d'onore nel senso diciamo etimologico l'antimiglio del termine non in quello e loro si credono uomini d'onore perché dicono che sono uomini d'onore con la coppa e quindi il suo appello leggo dietro le sue spalle quando diceva imprenditori denunciate come ho fatto io è stato raccolto poco si può dire ma effettivamente io prima di qualche mese fa di lanciare questo questo appello agli imprenditori specialmente della nostra provincia che poi la cosa che mi fa male perché l'anno scorso c'era una relazione della DIA dove diceva che la provincia del Gento era la provincia più mafiosa d'Italia e questa cosa fa male perché i nostri nemici non sono le forze dell'ordine in particolare Carabè finanza polizia o magistratura i nostri nemici sono i mafiosi quindi il cittadino deve incominciare a capire che le denunce e i mafiosi vanno denunciati quindi io ho fatto una chiamata alla prefettura e da lì abbiamo cercato di capire se c'erano in aumento o in diminuzione le denunce e credo che erano proprio in picchiata e quindi da lì non va più non funziona ma non può essere facciamo un po' di sociologia spicciola non è possibile che sia una questione di mentalità o addirittura di rassegnazione dire qualcuno Ignazio Coutrò ha fatto la sua scelta ha denunciato mentre ci può essere qualche imprenditore che dice vabbè che denuncio a fare tanto poi la vita me la rovino non so cosa si può pensare in questi casi forse quello che dirò sarò criticato ma io quell'imprenditore al momento che poi viene beccato dalla polizia che paglia il pizzo e non collabora lo tratterei come un mafioso perché effettivamente è così perché tu non puoi accettare l'oppressione dalla parte del mafioso ok in una parte ti posso condividere ti lamenti delle tasse che ti mette lo Stato e poi paghi volontariamente quella dei mafiosi allora ti posso condonare stiamo ridendo stiamo sorridendo vorrei dirlo alle persone che stanno eronicamente magari quindi in quel caso io ti potrei condonare che per paura hai pagato ma poi basta io voglio ricordare il dottore Vella cioè ricordare che dico è la mia famiglia è quella persona se Cutro è ospite di questa trasmissione sono certo che il dottore Vella sta guardando questa trasmissione è stato uno di quei fari per noi è stato importantissimo in una delle tante conferenze che abbiamo fatto assieme il dottore Vella dice una cosa in particolare quindi è relativa a quello che stavamo parlando cioè sono stato felice tre volte nella mia vita una volta quando sono nate le mie figlie e lì credo che ha ragione perfettamente perché poi dice quando io sono entrato nel mondo del lavoro ho vinto il concorso di magistratura ed era quello che volevo fare ed ero felicissimo e lì l'ho capita la terza cosa non l'avevo capita subito e la terza cosa sono stato felice è quando ho indorragato Ignazio Cuglio io l'ho guardato ma che c'è io non lo sto capendo questa me la può spiegare e lui gentilmente davanti a tutti me l'ha spiegata perché effettivamente aveva un senso e aveva un senso quello che ha detto io facevo le domande e Ignazio Cuglio mi rispondeva io ero felice non ero abituato ha anche detto che si immaginava di avere a che fare con un pazzo diciamo questo mi sta raccontando le cose come dire che era il segno del cambiamento il cambiamento ma per me era normale era normale quindi purtroppo quando tu puoi sei la nota stonata nella sinfonia sbagliata e per loro sei la nota stonata magari tu sei la nota giusta allora bisogna riscrivere tutta la sintonia per me era più facile accettare andarmene fuori dalla mia terra ma mi sentivo sicuramente come una pianta messa in un vaso magari potevo essere nel posto migliore della terra sui social quando si parla di Coutro ci sono poi i commenti uno dei più cretini che ho letto nella mia vita è stato quando ho letto che Ignazio Coutro veniva criticato perché si andava a mangiare la pizza non doveva andarsi a mangiare la pizza credo che sia una delle solenni stupidaggini non dire ma scalzonate che si possono dire qual è quello che le ha fatto più male il commento che ha fatto più male leggere il commento di mia figlia leggere il commento di mia figlia perché mia figlia non è il tipo che si espone o scrive molto riservata io mi trovavo in Puglia lo trovo in Puglia perché ero andato in Puglia poche settimane fa perché la regione Puglia vuole fare diciamo il seguito della regione Sicilia quindi ho incontrato lì il presidente della regione Puglia il suo capogabinetto e tutto quello che sia e lì con me c'era un vostro collega Federico Ruffo e Federico mi diceva cosa aveva la tua figlia questa mattina che era arrabbiata ho visto che ha scritto mi ha detto guarda io non l'ho guardato perché io di solito non guardo allora subito incuriosito ho aperto ho visto lo sfogo di mia figlia che aveva letto quella critica di quei concittadini che avevano detto di cotto e di crude allora e cosa ha scritto sua figlia? mia figlia ha scritto che effettivamente gli faceva male sentire queste parole perché noi abbiamo perso tutto in realtà cioè quindi il fatto della pizza che i carabinieri mi sono testimoni che forse in un anno io e la mia famiglia ci andiamo dieci volte perché non devi andare a mangiare la pizza questo non lo so fa parte della nostra questa è la cultura mafiosa questo servizio viene dato ma noi ci diamo dieci volte perché non ci possiamo andare perché non abbiamo amici quindi è lì è giusto dirla e quindi ti fa male sentire queste cose i commenti sono tanti però alle volte all'azione seguono la reazione quindi forse noi a un certo punto ci siamo chiusi un po' anche dentro perché effettivamente io a Bemola non vado più che neanche a comprare il pane forse sarà perché non lo so forse sto sbagliando però mi creda perché sente un po' di ostilità anche muta ma si respira nell'aria quindi non è che possiamo nasconderci di un dito quindi però noi abbiamo tanta voglia di andare avanti abbiamo tanta voglia del riscatto non mi sento completamente un eroe mi sento mi sento soltanto un semplice cittadino che sta provando in tutti i modi a fare il proprio dovere magari alle volte sbagliando magari sbagliando più degli altri però credo che in tutto questo questo percorso ho capito veramente i valori della vita quali sono ho capito che effettivamente i valori che mi aveva trasmesso mio padre ho capito che la terra è nostra e quindi io ho capito che sono fiero di essere siciliano e difendo la mia terra ma è ancora una cultura mafiosa quella che c'è dalle nostre parti in Sicilia? ma io credo di sì perché guardi io e cosa si può fare? lei parla con gli studenti sì io quando parlo con i ragazzi gli dico sempre che si parte anche dal basso si parte dalla semplicità mettere il casco rispettare rispetto delle regole fare la fila alla posta poi noi ci ritroviamo e andiamo a Monte Carlo non si butta la carta perché siamo a Monte Carlo poi noi magari buttiamo l'immondizia o quello che sia non abbiamo rispetto per l'ambiente io mi sono ritrovato l'anno scorso perché quando usciamo fuori dall'Italia non siamo tutelati quindi quando possiamo l'unica vacanza che preferisco ma non per chi ci tutela ma per una libertà personale andare fuori e gustarmi un po' di libertà perché a me mi manca il vento in faccia può sembrare una festeria ma è una macchina blindata non si abbassano i vetri quindi la cosa più semplice al mondo che prima non pensavo mi manca il vento che mi accarezza la faccia quindi in quell'occasione lo posso fare ci troviamo a essere in Svizzera mentre camminavamo vedo un carrettino in quel carrettino c'erano delle fragole c'erano un po' di ortaggi un po' di fiori e c'era un vasetto con dei soldi vedevo che si fermavano le persone si prendevano qualcosa le uova pagavano e se ne andavano io domando che eravamo assieme dei ragazzi di Torino gli ho detto ma cosa fanno no c'è qua che fanno così chi ha l'ortaggio e mette qua uno passa e si prende e paga e io istintivamente ho detto se eravamo giù da noi ci fregavamo il carrettino i soldi e tutto ecco non abbiamo nulla da invidiare a nord o come quella ragazza che mi viene dalla Germania la studentessa che viene alla scuola sono venuto all'università dalla Germania a trovarmi a casa mia il 4 di settembre di qualche anno fa e passiamo l'andiamo a prendere passiamo dalla piazza arriviamo a casa mia questa ragazza parlava in italiano perché loro studiavano l'italiano parlavano meglio di me sicuramente e mi dice signor Cuccio scusi le posso fare una domanda siamo passati in piazza ma la signora vestita di nero con il velo nero e il signore con la lupara e il cappello di velluso sull'asinello dove sono io mi sono sentito male ho detto guarda come ci definiscono lì fuori dall'Italia ho detto escono dopo le 16.30 la ragazza gli fa la professoressa presto le 16.30 ce ne andiamo perché io voglio vedere quelle persone noi parliamo anche di purtroppo di una sottocultura che si è un po' generata ricordo che qualche anno fa dei giornalisti misero una pistola finta per terra dei giornalisti stranieri per fare la foto e poi dire che avevano trovato una pistola per terra in un paese della Sicilia era una bufala e per dire che c'è la sottocultura poi il padrino la letteratura il cinema il mondo è cambiato non è cambiata una certa mentalità e quello non ce lo possiamo negare purtroppo ma dobbiamo dire solo una cosa non possiamo negare che la mafia è nata in Sicilia certo ma dobbiamo credere fortemente che sono nati gli anticorpi dall'antemafia e noi dobbiamo andare fiere e orgogliosi ma Ignazio Cutro non ha finito la sua battaglia eppure dice abbiamo vinto noi il titolo è bello il titolo è bellissimo il titolo dico permettete doveva essere questo doveva essere in culo alla mafia poi ci sono le dinamiche editoriali era molto pesante ma noi abbiamo vinto abbiamo vinto al momento delle sentenze noi abbiamo vinto ma abbiamo vinto noi tutti i cittadini non solo i siciliani ma i italiani perché ormai la mafia forse è più al nord che qua noi dobbiamo buttare fuori il nostro orgoglio e dobbiamo buttarli fuori a pedate a queste persone perché queste qua io quando vado per i ragazzi parlo nelle scuole gli dico sicuramente vostro padre è un'attività io quando arrivo a casa ho coraggio di guardare negli occhi i miei figli perché ho denunciato chiamatelo e glielo dite perché se vostro padre è un'attività ed è sotto usura ed è magari sotto pagheppizzo o deve stato o quello che sia quello che sta avvenendo fuori dall'inchiesta di bagheria è piuttosto inquietante inquietante quindi vi lascerà in eredità questo cancro ditelo a vostro padre che la prima reazione deve fare lui le basi le deve preparare il genitore perché poi tuo figlio sarà sicuramente si ribellerà a questo sistema la pianta va sradicata quando è piccolina anzi se si vede il seme si deve buttare nel fuoco bruciarlo quindi io la penso così basta non ci possiamo portare dall'altra faccia io la parlo all'altra parte noi non credo che non vediamo che nei nostri paesi ci sono persone che non lavorano e magari fanno una vita pazzesca con le macchinone è quello che sia il problema più grande io ho una malattia che quando vado nei posti compreso di sciacca poco fa avevo un po' di tempo e mi sono fatto passare davanti alle forze dell'ordine e davanti al nostro giburale le scale sono nuove sono nuove perché nessuno le sale e lì scende certo se tu entri in una stazione che crea benile guarda lo sbirro infame si a Bevole mi chiamano sbirro infame anzi ultimamente mi chiamano il pentito quindi sono avanzato di lato ebbene ok dobbiamo essere tutti sbirro infame tutti i confidenti di questura quelle scale devono essere consumate come quelle che sono consumate dai pub delle chiese dell'impese ci dobbiamo rendere conto e lo voglio ripetere lo ripeterò fino a che avrò sospiro in questo corpo che i nostri nemici non sono le forze dell'ordine e della magistratura sono i mafiosi punto e basta quindi lei sa che ha questi nomignoli che le hanno affebbiato ma si ma io ne vado orgoglioso mi offenderesse mi chiamavano Totorrina che so il mafioso allora si mi offenderò vabbè mi definisco un confidente di questura ok va bene ok mi parli dei suoi collaboratori di chi lavorava con la sua ditta sono stati come l'hanno presa quando lei ha cominciato a denunciare sono continuate a stare con lei se ne sono andati sinceramente l'indomani degli arresti mi sono ritrovato da solo in cantiere poi dopo dei giorni qualcuno è arrivato e solo due non si sono presentati gli altri poi si sono presentati tutti quindi mi sono stati vicini e siamo andati avanti e quei due che non si sono presentati lei cosa pensa di loro? ma se ne sono andati se ne sono andati al nord se ne sono andati al nord non penso niente io penso soltanto che bisogna difendere la propria terra non sono nessuno per criticare nessuno cosa fanno i suoi figli adesso? studiavano come lei sicuramente pensa a Milano Giuseppe ora siamo ritornati sta riprovando Giuseppe a studiare nuovamente giudisprudenza da reggento mi ha fatto felice pochi giorni fa perché un po' di tempo fa perché la mia insaputa dopo la mia chiusura dell'azienda mio figlio ha reparto l'azienda quindi sono sono stato veramente felice felice di questo felice perché so che nuovamente in mercato c'è una ditta Coutro quindi Giuseppe Coutro come suo padre come mio padre e cosa penserebbe suo padre? ma mio padre credo che oggi come oggi sarebbe la persona più felice del mondo suo padre l'avrebbe assistito a lei nella sua battaglia? mi manca mio padre io mi ricordo mio padre avrebbe condiviso questo suo io parliamo lo dico con rispetto per la memoria di suo padre ma non lo conoscevo mio padre è morto in un incidente del lavoro ha lavorato fino all'ultimo secondo l'idea l'idea di combattere così io non so il suo padre ma naturalmente era di un'altra generazione l'avrebbe capito? mio padre se io oggi sono qua è grazie a lui è grazie a quello che mi ha insegnato io mi ricordo che quando ero piccolo quando giravo con lui in paese io non voglio essere troppo volgare però lui quando camminava ogni tanto diceva pezzo di merda non si preoccupi ormai non c'è programma televisivo a qualunque ora del giorno e della notte in cui non ci sia una parolaccia ma si immagini se il pezzo di merda è una parolaccia quello è veramente io ero piccolo poi non ho usato chiedere quando ero più grande sui 12-3 anni gli ho chiesto a mio padre ma perché ogni tanto dice questa cosa ecco quello è un pezzo di merda mafioso quindi vi ho detto che era mio padre quindi sicuramente avrebbe condiviso il percorso si dice che la mela non cade tanto lontano dall'albero e come è vero e però questa cosa della ditta Coutreau che rinasce un po' posso dirlo dalle ceneri della sua come la Felice ho capito che lei si è anche un po' commosso poco fa parlandone cosa augura al suo figlio io mio figlio auguro tutto quello che non ho potuto avere io e quello che avevo giurato sulla tomba a mio padre io infatti avevo scritto pure una piccola poesia che è nel libro a mio padre e gli avevo promesso che effettivamente avrei fatto di tutto per sfamare la mia famiglia e quindi poi la decisione di chiudere l'impresa e accettare il posto regionale era perché volevo sfamare la mia famiglia io non mi sento di essere un perdente ha perso chi mi ha fatto chiudere chi mi ha fatto chiudere l'azienda ha perso chi poteva fare non ne ha fatto ha perso ha perso la politica Polo Rolaia perché ha mandato secondo me un messaggio devastante nel nostro territorio già devastato dalla mafia e non deve essere l'input negativo che gli imprenditori devono dire abbiamo fatto la fine di Ignazio Cucciò perché Ignazio Cucciò fino a oggi dice imprenditore imprenditore denunciate io a mio figlio auguro tutto il bene del mondo auguro che lui diventi un grosso imprenditore auguro che gli posso quell'aiuto che non hanno dato a me lo diano a mio figlio e spero che i cittadini bimonesi lo chiamino lo chiamino per lavorare che fino ad ora non è successo ma spero che prendano coscienza e sappiano che è un cittadino bimonese un cittadino che sta lavorando magari avrà bisogno di qualche collaboratore per lavorare quindi i cittadini bimonesi magari possono anche riflettere su questo fatto magari potrà dare lavoro a qualcuno noi ci siamo la poesia se la ricorda un po' così vediamo se chiudiamo così mi creda sono troppo emozionato mi ha fregato sulla domanda di mio padre non ce l'ha riuscito nessuno mi ha scusato veramente non volevo spettacolarizzare nessuno no 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 per me mio padre mi ricordo che sempre in quella poesia quando mi mi gocciolavano le gocce di sudore sulla fronte lui me la prendeva con un dito e mi diceva ogni goccia di sudore che cade la tua fonte è una goccia di dignità e noi adesso chiudiamo con un momento di silenzio facendovi vedere la poesia in sovraimpressione grazie a Ignazio Codro per essere stato nostro osso grazie per grazie a voi